Ciao a tutti e bentornati sul canale! Sono felicissima oggi di girare questo video perché così lancio il giveaway d'autunno quindi il giveaway per praticamente augurare un buon autunno a tutti e quindi sperando che questo autunno sia un autunno ricco e prosperoso per tutti allora cosa ho messo in palio in questo giveaway? In questo giveaway ho messo in palio questa palette, questo è lo scatolo, questa palette della Kiko della linea I Campus Idol allora nello specifico è la palettina numero 1 L'Ovely Naturals è questa qui sono molto molto contenta di mettere in palio questa paletta anche perché l'avevo acquistata io e ne avevo acquistato una appunto per voi come potete vedere tutti i colori all'interno sono colori naturali quindi un po' del marroncino o sul grigio quindi richiamano appunto i colori dell'autunno e non potevo fare altrimenti appunto che metterla in palio poi c'è anche un pennellino qui a doppia spugnetta, qui c'è anche lo specchietto e comunque questa è la palettina spero davvero che come pensiero vi possa piacere altro prodotto che ho messo in palio ma è giusto un po' il prodottino per arricchire il tutto è questo set di pennelli l'ho acquistato al cinese però voglio specificarvi che tutto ciò che io vi regalo non mi viene regalato da nessuna azienda ma è tutto ciò che acquisto io e lo acquisto col cuore per voi anche questo set di pennellini davvero davvero grazioso con questi manici spero che si riescano a vedere così che richiamano un attimino lo scozzese quindi la trama scozzese tipo il kilton e quindi va forse benissimo abbinato mi ricordavo un po' il fatto delle campus idol tutte quelle connelline da... vabbè questo richiama un po' le connelline quelle da cheerleader però queste richiamano appunto quelle divise da college e siccome l'autunno è anche l'inizio della scuola anche se è iniziato un po' da... ormai da qualche giorno quindi senz'altro credo che sia cosa credita all'interno ci sono dei pennellini per gli occhi per il viso, per le sopracciglie comunque è un kit abbastanza carino e poi i pennelli vanno abbinati benissimo alla palettina allora che dirvi vi spiego un attimino velocissimamente le regole che sono semplicissime allora il giveaway durerà dal 22 di settembre quindi data della pubblicazione fino al 22 ottobre quindi durerà un mese per partecipare l'importante come ben sapete è essere iscritti al canale perché altrimenti non avrebbe senso io devo premiare le persone che sono iscritte al mio canale dovete lasciare un bel like quindi un bel pollicino all'insù al video e lasciare anche un commentino importante perché io in base ai commenti andrò ad estrarre appunto la palettina e i pennelli quindi andrò a fare le estrazioni del giveaway quindi un solo commento a testa mi raccomando credo che userò un sito di quelli appunto per l'estrazione e quindi andiamo così a caso non farò una scelta io personale allora ribadisco essere iscritti al canale è importantissimo lasciare un bel like e un commento sotto al video ripeto il giveaway durerà un mese dal 22 settembre al 22 ottobre e nulla questo è tutto spero che appunto i regalini vi piacciono spero che ci saranno nuovi iscritti e spero davvero che anche gli iscritti già da tanto tempo avranno il piacere appunto di partecipare a questo giveaway io vi mando un grossissimo bacio e vi aspetto ai prossimi video ciao e buona fortuna a tutti grazie ciao